Da Gauto, Mitsubishi Motors, in via nazionale torrente, mercogliano, Avellino. Sciatori meridionali, rassegnatevi, sarà un altro inverno senza seggiovie all'aceno. Piste chiuse, sepolte dalla neve, ma ancora di più dalle polemiche. Nel braccio di ferro gestore e amministrazione, gli appassionati si dirigeranno verso altre mete. Roccaraso, Campitello, per la provincia di Avellino una sconfitta in termini turistici, ma soprattutto economici. Mancati introiti per milioni di euro, indotto a bocca asciutta, dagli alberghi ai ristoranti, passando per i piccoli produttori enogastronomici. Ma come si è arrivati a tanto e soprattutto quali prospettive, quanti anni ancora dovranno passare per rilanciare il turismo sull'altopiano per l'intero inverno? Ne parleremo a Ride, come tutti i mercoledì, in diretta dalle 21.30, con ospiti in studio e collegamenti esterni. Abbiamo chiesto all'amministrazione comunale, alla proprietà privata delle seggiovie e alla regione Campania di fornire un contributo al dibattito. Apriremo alle telefonate da casa e agli interventi attraverso i social network. Turismo tutto l'anno, quali infrastrutture e potenzialità, quali gli ostacoli da superare a queste domande che cercheremo di dare una risposta, parlandone con i rappresentanti istituzionali, ma tenendo sempre l'orecchio teso all'ascolto del territorio. Quando si tornerà a sciare all'aceno? Quando in Irpinia si farà un turismo invernale coi fiocchi? Ride le risposte per dare speranza agli sciatori di Napoli-Salerno del meridione legati indissolubilmente all'altopiano. Ma risposte cercheremo di darle soprattutto a quanti credono che davvero l'Irpinia sia un diamante grezzo, prezioso ma da valorizzare e che non si rassegnano all'idea dei furipista che uccidono il territorio.